beh a fine serata ci voleva una diretta da ripacorbaria di manopello perché sei anni fa proprio esattamente qui sei anni fa a parte che sei anni fa ho iniziato con le mie diciamo le mie tappe in abruzzo e sei anni fa ho conosciuto la cosiddetta donna delle fregne elena delle fregne quindi a distanza di sei anni io vado a ritrovare elena delle fregne vediamo un po andiamo 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 qui ho fatto lo spettacolo vedete stanno smontando una bella serata salutate perché siete in diretta amici ciao se andate su youtube mettete cercate questo video che ha milioni di visualizzazioni ecco non è cambiato nulla a distanza di sei anni non è cambiato nulla non è cambiato nulla a distanza di sei anni siamo in diretta 300 persone che a mezzanotte vedono le fregne guardate c'è la vedova c'è la spudorata la lussuriosa la viziosa la pocosa la vanitosa la retro la delicata la 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 trasgressiva la rasata che cazzo la rasata di questi tempi ci vorrebbe un po di pelliccia non si può sentire fammi assaggiare fammi assaggiare la vuoi già assaggiare te la faccio calda sì a quest'ora si può dire tutto ma non esageriamo perché lo vedranno anche domani curiosi 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 ci sono sempre allora vengo io a live anch'io la a distanza di sei anni siamo tornati qui e io sono tornato qui soprattutto per lo meloni quando mi ricordo la meloni allora la pregna che cos'è la pregna io non faccio vedere più la pregna di prodotto tipo il grappe da quando si chiama grappe però ci devi far vedere la tua perpa come no come sei anni fa ma smettila come sei anni fa sono le 12 e 30 siamo rigorosamente in diretta dobbiamo tornare a bari abbiamo un viaggio lungo da fare ma non sono tutte uguali ma anche in natura sono tutte uguali non lo so tu con lo stampino te la danno te la bagnata non l'hai bagnata a me scusa non esagerare ma ragazzi comunque a parte di scherzi la rompe facile si è un schienato uccio lo doveva beccare fa male la prende fa male eccola facciamo un calcolo rapido un po' non lo dico che sta la finanza qua no vabbè noi questa prende la facciamo un bacio è regolare un saluto con un bacio a uccio non è che la volta buona che ci metteva la lingua ecco qua il pubblico che si vede a quest'ora con tanta gente che ci segue è un mito se venite in Abruzzo è un mito lei si chiama Elena Elena delle Fregni amiche di uccio dite così amica e avete lo sconto siamo amici ah si c'hanno lo sconto non lo sapevo non vuoi finire ciao ragazzi ciao un bacio ciao salutate grazie 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 a tutti